condividere questi momenti con qualcuno che ha vissuto le stesse emozioni le stesse paure le stesse difficoltà che hai vissuto tu chiaramente rende tutto più semplice ecco quando ti senti capito è tutto più in discesa che ci accomuna la voglia di vivere la voglia di amare qualcosa di amare quello che si fa e di stare bene per questo è quello che accomuna tutti i ragazzi che siamo qua c'è sempre più bisogno di essere persone migliori di relazionarsi con gli altri di fare gruppo perché nella società di oggi c'è sempre più bisogno di queste cose non c'è né un eroe né una persona che vale di meno delle altre ma siamo tutti delle persone che hanno diritto uguale a vivere e a vivere cercando di rendere la vita piena degna di essere vissuta